Compromissione dell'economia delle attività commerciali, disagi per l'accesso agli ambulatori medici, in particolare per le persone con difficoltà. Sono queste alcune delle questioni affrontate dai titolari delle attività di via Campo di Marte e via Falcucci a Gubbio con l'avvocato Andrea Migliarini, legale al quale i commercianti si sono rivolti dopo la decisione del Comune di istituire parcheggi a pagamento nelle direttrici su cui insistono 18 esercizi commerciali con i rispettivi 64 nuclei lavorativi. Dopo l'acceso incontro con l'amministrazione comunale e la polizia municipale, i soggetti portatori di interesse delle vie in questioni nel confronto con l'avvocato Migliarini hanno ribadito l'assoluta contrarietà rispetto all'istituzione delle strisce blu. Una scelta penalizzante in un momento in cui già i rincari fanno sentire il loro peso sui risparmi delle famiglie che ancora scontano le difficoltà della pandemia e per le attività commerciali che nel complesso rappresentano un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto con esercenti che sono cresciuti e hanno scommesso sulla zona anche con importanti investimenti sia nelle attività che negli immobili. Vedere ora realizzate nuove aree di sosta a pagamento con un numero di posti auto ridotto rispetto a quello attuale rappresenterebbe una difficoltà per i titolari degli esercizi che attraverso il proprio legale stanno valutando iniziative per vedersi tutelati. L'avvocato Migliarini è già al lavoro per inoltrare agli uffici competenti una istanza di accesso agli atti al fine di acquisire la documentazione per verificare se ci sono le condizioni per un'eventuale impugnativa davanti all'autorità giudiziaria. Da tenere in considerazione per legali e commercianti c'è il fatto che la creazione di parcheggi a pagamento di per sé crea le condizioni per soste a media lunga permanenza precludendo la rotazione della clientela che vorrebbe accedere ai singoli esercizi con il rischio di comprometterne l'attività economica. Dopo l'emergenza sanitaria ciò costituirebbe un ulteriore colpo per gli incassi dei negozi alcuni dei quali stanno già valutando se trasferirsi altrove. Dal legale viene poi sottolineato il fatto che via Campo di Marte ospita cinque ambulatori di medici di base più specialisti, ambulatori il cui accesso risulterebbe poco agevole alle persone con gravi problemi di salute qualora i posti auto vengano ridotti. Nelle immediate vicinanze inoltre non sono presenti aree di parcheggio libero e così anche i residenti cominciano a rumoreggiare sulla questione. Le strisce blu infatti potrebbero incentivare clienti ed utenti delle varie attività nel parcheggiare i propri veicoli nelle aree in cui solitamente trovano posto le persone che vivono nelle zone interessate dal provvedimento. Una vicenda dunque che fa ancora discutere e su cui il comune ha invitato i commercianti a fare delle proposte per cercare di trovare un compromesso al fine di conciliare le diverse sensibilità coinvolte.